Erika, il Mondiale è ufficialmente iniziato perché con questa presentazione è iniziato. Domani il Giappone, con che spirito? Siamo molto eccitate, abbiamo una grinta e siamo pronte per giocare la prima partita. Abbiamo avuto tre settimane quasi di allenamento e quindi adesso è ora di giocare e siamo molto pronte. Sarà molto difficile perché il Giappone è veramente una squadra molto molto dura da affrontare. È una squadra molto dura ma noi siamo, come ho detto prima, siamo pronte e abbiamo un sacco di grinta e abbiamo solo da metterci tutto al campo e darci tutto. Come si può tatticamente o tecnicamente provare a giocare fino al settimo e rimanere in partita contro una squadra come il Giappone? Dobbiamo giocare insieme, giocare come una squadra e aiutarci ogni inning, aiutare i lanciatori, aiutare i battitori. Dobbiamo sempre giocare come una squadra e così arriviamo al settimo. Dobbiamo!